Emergenza siccità e frequenti temperature sotto zero, la Maremma è nella morsa dei cambiamenti climatici che rischiano di creare danni ingenti alla produzione agricola. Coldiretti ha già lanciato l'allarme di un raccolto di cereali che potrebbe presentarsi ridotto del 50% rispetto all'ultima campagna a causa delle scarse piogge. È una preoccupazione gigantesca perché noi abbiamo avuto non soltanto siccità, parto dal presupposto che Grosseto abbia oltre il 31% del prodotto interno lordo proveniente dall'agroalimentare, l'eleno gastronomico e il turistico ricettivo e quindi fonda essenzialmente tutta la sua portata economica proprio sul mondo legato all'agricoltura. Abbiamo avuto non soltanto una grande siccità ma soprattutto, e viene spesso sottovalutata, una delle più fredde stagioni invernali che siano mai esistite negli ultimi 50 anni con oltre 70 giorni in cui siamo andati sotto zero. Una miscela di difficoltà che potrebbe essere letale per un'economia già in ginocchio dopo la fase più acuta della pandemia. Dalla Confederazione degli Agricoltori invece è arrivato forte e chiaro un appello dotarsi di strutture che siano in grado di immagazzinare l'acqua nei periodi di eccessi di piogge da poter riutilizzare nei periodi di siccità proprio come quello attuale.